Raga, iniziamo così il video con son pettinato perché DER97 inizia il video chiedendo se è pettinato E' pettinato? Sì, è pettinato, sì, sì, sì Pettinato, sì, è pettinato, pettinato, pettinato Io naturalmente non posso dire se son pettinato perché sono sempre spettinato DER97 con i mates sullo sfondo E voi vi chiederete perché questo video di DER97 è fatto benissimo Perché lo sto facendo io Che bello Perché di solito DER quando fai video Oh, tremola Oppure ciao a tutti ragazzi, siamo DER97 E bisogna anche usare una voce minima Ma devo pigliarmi la Canon? No, la Canon E con i telefoni stanno in guiace Ma il telefono fa benissimo il video, è vero che fa benissimo il video a te Voi non vedete ma loro approvano, approvano Le ragazze del monte hanno detto sì Niente ragazzi, DER97 qui vuole fare la cosa con i mates Vuole fare un piccolo video In realtà si produce anche Lele Colli che tra poco vedremo Lele Colli In un altro video Quindi ringrazio DER97 che è un amicone Ci vediamo poi nella prossima video perché facciamo poi delle cosette e scavita insieme Ok? Mi raccomando non comparti la Canon perché costa troppo cara Io ti consiglio di comparti una Sony Sony? Si può ruttare? Scusate, dovevo farlo Non ce la facevo più Scusatemi un casino Sì ma è tutto assoluto che se ne va Ho mangiato tre tramezzini e non ce la facevo più Come i tramezzini? Sì Sì ma basta che non fermi turismo perché poi No no Io ho già scorreggiato un casino Come? Fammi dire avanti a lotta Eh non vuoi Sì comunque scorreggio stifo Se vi firma 2016 sul foglio tirategli via il cappello Mi raccomando Questo è Stepney Alla prossima Fabio Z DER97 Ciao Ciao